Moana Pozzi è viva. Ecco dove si trova. La rivelazione shock, dopo 24 anni, dalla misteriosa scomparsa dell'attrice, spunta una nuova testimonianza, che afferma che Moana è viva, e si è solo rifugiata all'estero, dove nessuno la conosce. A dichiararlo, è la segretaria di Riccardo Schicchi, produttore e merito di Eva Inver. La signora Deborah Tanasio, ha dichiarato che la moglie di Schicchi, le avrebbe rivelato la verità. Ecco le sue parole. Mi ha raccontato che, pochi giorni prima di ispirare, suo marito Riccardo, delirante a causa del coma diabetico, le ha detto. Moana è viva, e sta in Polinesia, dove è felice perché nessuno la riconosce l'Atanasio, ha ricordato l'ultima volta che ha visto in vita Moana, spiegando che la malattia era comunque reale, che fosse malata e innegabile. Era magrissima fisicamente molto provata, ma questo non esclude che possa essere guarita. E poi c'è stata una telefonata della mia amica, Eva Inver, che ha riacceso la speranza. Mentre, d'altra parte, il legale della vedova Schicchi, ha fatto sapere che la sua assistita, non vuole tornare sull'argomento.